Intervista al prefetto Enrico Ricci che lascia Bergamo è stato destinato a Catanzaro. Oggi il saluto dell'Accademia dello Sport per la solidarietà e del CSI di Bergamo. Prosegue a Colzate l'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Gli alunni della primaria hanno eletto la nuova sindaca, Jennifer Corlazzoli. A Valgoglio la dodicesima rassegna della caprorobica regina e re dalla provincia di Lecco e dalla Val Brembana. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. In apertura abbiamo la cronaca. Un uomo di 65 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina lungo la provinciale della Valle Rossa. È successo poco prima delle nove in territorio di Bianzano. L'uomo residente alle F ha perso il controllo della sua auto. la vettura è finita fuoristrada ribaltandosi. Una volta scattati i soccorsi, la REU ha inviato sul posto l'elicottero decollato da Bergamo e due ambulanze. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga che hanno provveduto a estrarre l'uomo dall'abitacolo per poi affidarlo ai soccorritori. Per i rilievi sono invece intervenuti i carabinieri della stazione di Casazza. Nei giorni scorsi a Bergamo i carabinieri hanno arrestato un giovane pluri pregiudicato, autore di una rapina perpetrata all'interno della filiale Unicredit di piazza Vittorio Veneto. Nella tarda mattinata di martedì 22 novembre un ottantenne si è infatti recato presso la filiale Unicredit per depositare del denaro. Allo stesso tempo un 25enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio è entrato all'interno dell'istituto e si è appropriato delle banconote che in quel frangente stavano per essere versate. L'anziano nel tentativo di bloccarlo è stato strattonato ed è caduto rovinosamente a terra fortunatamente senza riportare lesioni. A quel punto alcuni presenti hanno tentato di ostacolare la fuga del rapinatore poi definitivamente bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto. Il giovane è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Bergamo con l'accusa di rapina pluriaggravata. Cambiamo argomento. Il prefetto Enrico Ricci saluta Bergamo, la città che lo ha accolto nell'aprile del 2020 proprio nelle settimane più dure della sua storia recente. è stato destinato a Catanzaro. Questa mattina al centro sportivo di via Montegleno in città il prefetto è stato salutato dall'Accademia dello Sport per la solidarietà insieme al CSI di Bergamo. Per noi c'era Simone Masper. Arrivato nei momenti più difficili della provincia di Bergamo nell'aprile del 2020, cosa lascia? Beh, intanto lascio un pezzo di cuore perché mi sono molto affezionato a questa terra anche perché l'ho vissuta in momenti, come ricordava, piuttosto difficili forse i più difficili da un bel pezzo a questa parte e quindi ho creato tanti rapporti di amicizia, di colleganza con una realtà che ha saputo subito risollevarsi quindi appena sono arrivato ho visto che c'era una voglia immediata di ripartenza che è la caratteristica forte di questo territorio di non abbattersi e di trovare subito le risorse per proseguire con grande forza e con grande determinazione. sapevo che era una realtà ricca dal punto di vista imprenditoriale dal punto di vista lavorativo ho trovato anche una terra ricca di solidarietà e l'Accademia, dove sono oggi, l'Accademia dello Sport e della Solidarietà è per l'appunto una di quelle realtà di eccellenza che si è distinta nelle attività di sostegno nel periodo del Covid. Un bilancio invece dal punto di vista operativo? È stato certamente un periodo non facile soprattutto quello legato alla gestione del Covid perché abbiamo soprattutto con le forze di polizia il Comitato Provinciale per l'Ordine di Sicurezza Pubblica abbiamo adottato mano a mano tutti i servizi che devono essere predisposti per contenere il diffondersi dell'epidemia sotto il profilo delle attività di polizia quindi un'attività piuttosto intensa anche in ragione del fatto che le disposizioni in quella materia ricorderete cambiavano con una certa rapidità era un susseguirsi di decreti di DPCM in quell'epoca che ovviamente ogni volta devono essere ricalati sul territorio. Giovanni Licini dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo un saluto speciale voi avete sempre fatto del bene della solidarietà avete trovato tanti amici sul vostro percorso come in questo caso un saluto per questa nuova avventura del Prefetto. Diciamo che il Prefetto è stato con noi nelle prime ore del problema del Covid a Bergamo anche lui è arrivato nel marzo 2020 noi eravamo impegnati a raccogliere fondi per aiutare il nostro territorio in particolare con l'Attac Mobile che è stata operativa a Seriate per quattro mesi e quest'Attac Mobile ha permesso di salvare tantissime vite umane e soprattutto poi abbiamo contribuito in modo sostanziale sulla realizzazione dell'ospedale della Fiera di Bergamo. Il Prefetto è venuto a tovarci perché in quel periodo abbiamo collaborato lui veniva in una terra che era nel momento della massima disperazione e lui con la sua operatività è riuscito a collegare le istituzioni con il volontariato e con la sanità un ruolo importantissimo. Questa Accademia cosa ha fatto? Soprattutto negli ultimi anni per chi non vi conosce un più di un milione di euro per la beneficenza e continuate ancora diventando un punto di riferimento di un centro sportivo come quello di Bergamo. La nostra attività parte nel 1976 con un'età molto datata ma solo negli ultimi 15 anni abbiamo iniziato a raccogliere fondi da dare sul territorio e in 16 anni abbiamo donato circa 1.700.000 euro a varie enti e associazioni di volontariato a Bergamasco in più durante il Covid sono giunti a noi a livello sia nazionale che internazionale perché c'è stato un aiuto importante anche di ragazzi la tifoseria a Tarantina di Isbruck più di 1.200.000 euro. Noi siamo impegnati a far sì che le esigenze del territorio vengano portate da noi e cerchiamo di risolverle sul territorio della Vasseriana in particolare abbiamo fatto tutto il centro vaccinale di Clusone e il centro vaccinale di Piario in più noi i nostri volontari hanno operato in modo continuativo sul centro vaccinale di Chiuduno. Prosegue a colzate l'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni della primaria nei giorni scorsi hanno eletto al termine di un percorso di scoperta della cosa pubblica la nuova sindaca. Qual è la vostra missione quindi anche andare nelle scuole e spiegare come funziona il processo democratico? Esatto crediamo che si impari il processo democratico fin da bambini e sia giusto che loro lo imparino oltre al fatto che per loro è un'esperienza estremamente divertente anche oltre che importante nel senso che entrano nel mondo dei grandi che per loro è sempre carico di mistero di interesse sempre molto affascinante però chiaramente imparano molto le insegnanti quest'anno hanno avevano chiaramente già fatto un percorso su come funzionasse diciamo la democrazia in Italia quindi dal punto di vista governativo però poi anche siamo poi passati al diciamo al piccolo quindi al comune come funziona il comune quindi io sono venuta ho spiegato un po' tutto il funzionamento e ho proposto ho lanciato la sfida di creare due liste elettorali visto che grazie al cielo quest'anno la quinta è abbastanza diciamo ricca di bambini visto che sono una quindicina e niente quindi hanno creato queste due liste con i programmi quindi hanno dovuto anche pensare al benessere del paese della scuola come già dicevano anche i due candidati sindaci hanno dovuto pensare a idee e hanno pensato a idee non solo all'interno della scuola ma anche cose per il paese e questa in realtà è una cosa che era è abbastanza nuova diciamo rispetto agli altri consigli comunali spesso pensano solo alla scuola programmi come veri politici quelli presentati dai ragazzi e sono anche dei suggerimenti importanti per chi amministra al di là della presenza fisica della sindaca nel futuro esattamente quest'anno appunto come dicevo sono usciti anche dalle mura scolastiche cosa che non succede solitamente generalmente pensano a delle cose che servono per migliorare la loro scuola invece sono riusciti a uscire e pensare anche a cosa serve per migliorare il paese quindi sicuramente suggerimenti anche per noi ma chiaramente tante cose le vogliono portare avanti loro ed è giusto che sia così quindi adesso procederanno pensando a come loro hanno un budget che il comune fornisce per portare avanti questi progetti penseranno a come spenderlo dovranno decidere quali sono i progetti di primaria importanza quali invece possono essere lasciati indietro e capire bene come spenderli capire che i soldi sono di tutti non solo loro quindi anche questo per loro sarà una crescita un bel passo in avanti nella crescita e nel diventare cittadini iniziamo con la nuova sindaca del consiglio comunale dei ragazzi di Colzate come ti chiami? Jennifer Corlazzoli come mai hai deciso di gettarti nella mischia per questo ruolo? perché l'aveva già provato anche mia sorella e volevo provare come era come era fare il sindacesso dei ragazzi una vittoria schiacciante la tua possiamo dire te l'aspettavi? no non me l'aspettavo anche perché abbiamo fatto molte idee belle ma anche l'altro gruppo le ha fatte molto belle e quali sono le idee vostre? abbiamo fatto molte idee per il paese ma anche per la scuola e sono molto belle le ho metto qualcuna ce la puoi dire? che abbiamo deciso di mettere il bozzo per la biblioteca dei libri poi anche fare un orticello per la scuola ma magari coltivare anche dei fiori e anche per chi arriva a fine quinta magari fare un pigiama party per salutarci tutti con la colazione e anche i film magari il tema del caro bollette e delle ragioni che lo causano è al centro della serata che il gruppo Albino in transizione ha organizzato per domani martedì 29 novembre a Comenduno Remo Valsecchi aiuterà a capire i meccanismi gli attori in gioco le dinamiche e le disfunzioni che si riversano sulle bollette il tutto con un linguaggio semplice e non da addetti ai lavori l'incontro si svolgerà nel teatro dell'oratorio di Comenduno di Albino alle 20.30 e ci spostiamo adesso a Valgoglio ieri la dodicesima rassegna della capra orobica sono arrivati anche allevatori da fuori provincia una domenica con le capre protagoniste a Valgoglio nel paese dell'Alta Valseriana è andata in scena la dodicesima edizione di Capre in Festa rassegna dedicata alla razza orobica dopo due edizioni contrassegnate dal maltempo una giornata di sole ha fatto da cornice alla manifestazione organizzata dal gruppo rassegna capre orobiche di Valgoglio in collaborazione con Valgoglio Live e il patrocinio del comune di Valgoglio e della comunità montana Valseriana grazie al bel tempo e al clima mite sono arrivati parecchi visitatori che hanno potuto vedere anche i mercatini di Natale allestiti in palestra al campo sportivo la rassegna delle capre ha visto partecipare 16 allevatori provenienti da diversi paesi dell'Alta Val Seriana ma anche dalla Val Brembana e addirittura dalla provincia di Lecco ben 220 i capi presenti tra Capre e Becchi nel corso della mattinata condotta dallo speaker Oscar Galizzi le diverse categorie hanno sfilato sul ring i capi premiati sono stati poi richiamati alla fine per eleggere re e regina della fiera il titolo di regina è andato a una capra dell'azienda Carla Binda di Oliveto Lario in provincia di Lecco come re della rassegna è stato invece scelto un becco dell'azienda Fratelli Rota di Zogno un premio anche al miglior gruppo di tre capi assegnato all'azienda Carla Binda il difficile compito di valutare Capre e Becchi è stato affidato al giudice Marcello Selva coadiuvato da Giovanni Bailo come ha trovato i capi che ha dovuto valutare oggi? li ho trovati li ho trovati veramente ben presentati soggetti veramente meritevoli di spilare nel ring non pensavo di trovarne così tanti di così tanti allevamenti fortunatamente quasi tutti giovani quasi tutti ragazzi appassionati di questa bellissima razza appassionati di vivere la montagna non solo di frequentarla ma di viverla e quindi sono stato incaricato di questo compito che è difficile perché io prima di fare il giudice sono stato e sono un allevatore di capre eorobiche quindi so cosa vuol dire allevare i propri animali e mettersi in discussione e partecipare a una mostra dove a volte magari non si viene premiati non si viene addirittura si ha l'impressione di non essere addirittura considerati è quello che oggi ho cercato di evitare io oggi ho cercato di guardare tutti gli animali e ho fatto quello che ho ritenuto opportuno dico sempre che per valutare eorobica bisogna usare testa e cuore ovviamente non nel guardare i proprietari ma bensì nel guardare gli animali quindi bisogna guardare un po' tutto l'insieme quindi ancora un applauso agli organizzatori che sono stati secondo me impeccabili che danno ancora vita a questa razza che non dimentichiamoci fino al 92 è stata scoperta ed è stata addirittura minacciata di estinzione oggi questa minaccia fortunatamente è scongiurata e anzi secondo me si è stabilito un'omogeneità si sono fissati i caratteri della razza e secondo me abbiamo solo da crescere vedendo ripeto gli allevatori giovani penso che la crescita sarà ancora più in discesa ci spiega la scelta di re e regina? allora bisogna scegliere il bello e la bella tra i belli come ho detto prima ci vuole cuore e ci vuole occhio Gallaratti Scotti che io ho avuto la fortuna di conoscere che è stato il padre dell'orobica andavo a trovarlo in facoltà alla facoltà di agraria nel suo ufficio mi ha sempre detto saper scegliere un dono io non so se ho questo dono però mi baso molto sul colpo d'occhio le immagino sempre queste bestie che siano in montagna che saltano sui sassi che saltano sulle rocce e oggi quelle che mi hanno rubato gli occhi rubato il cuore sono state queste due non ci sono dei canoni pissi per scegliere il re e la regina sono quelle che quel giorno ti sanno dare quel qualcosa in più si prepara un dicembre ricco di eventi a Clusone e tanti gli appuntamenti messi in calendario dalla Turismo Proclusone con il sostegno dell'amministrazione comunale dai mercatini alla Notte Bianca vediamo voglio partire con un ringraziamento di solito si fanno alla fine il regalo di Natale la Turismo Proclusone l'ha già ricevuto e sono questi nuovi volontari che dopo aver distribuito 2500 lettere quasi una quindicina di persone si sono avvicinate alla Proloco e voglio partire proprio da qui ringraziandoli perché se tutto verrà come abbiamo desiderato il merito è oltre che dei componenti del consiglio direttivo anche e soprattutto di queste persone partiamo il 3 dicembre con i mercatini di Natale o meglio lo vogliamo chiamare il villaggio di Natale qui ci troviamo nel cuore di quello che saranno i 17 giorni del villaggio ovviamente non sto qua a dire tutte le date perché poi l'invito è di andare a leggere appunto i post su Facebook e comunque anche gli articoli che verranno pubblicati sui social sono 17 giorni importanti dove troveranno spazio ovviamente 10 casette gazebo 10 casette gazebo che verranno allestite che verranno colorate il parco che vedete alle mie spalle verrà arricchito verrà colorato è già bello di suo è un parco che probabilmente lascerà stupiti gli stessi clusonesi oltre che ai turisti qui troveranno spazio tantissimi obbisti artigiani ma soprattutto il tutto sarà contornato da 5 pomeriggi dedicati ai bambini con artisti di strada con animazione con trucca bimbi i poni insomma ci saranno tante sorprese per i bambini e per le loro famiglie ci saranno anche 4 giorni l'8 il 10 dicembre il 23 il 24 dove ci sarà babbo natale con un nuovo vestito che riceverà i bambini che porteranno la letterina insomma davvero sarà un calendario di villaggio di natale davvero importante non possiamo dimenticare la notte bianca nel 10 dicembre 9 ore e mezza filate di appuntamenti che prenderanno il via col dj di radio like a toni tranquillo poi ci saranno altri due appuntamenti musicali fino alle 23 e 30 con due gruppi davvero importanti ci saranno anche qui nel pomeriggio si alterneranno 4 appuntamenti con gli artisti di strada con lo spettacolo finale del fuoco poi ci saranno tantissimi appuntamenti per i più piccoli organizzati dalla consulta dei giovani nella corte di Sant'Anna 4 ore intense anche lì quindi bambini venite perché ci sarà il flash mob ci sarà il pane e nutella il mago ci saranno anche 4 asinelli che accompagneranno i bambini per il paese poi durante il pomeriggio tutto il pomeriggio ci sarà un'esposizione di auto d'epoca in piazza Orologio ci saranno i nostri cari amici alpini in corte in piazza La Roca scusate a distribuire tec al d'arroste vin brulee ci saranno tantissime altre associazioni in giro per il paese ci sarà qualche appuntamento importante anche in piazza Manzù non voglio svelarvi tutto l'importante è che veniate a Crusone il 10 dicembre dalle 15 alle 23 e 30 poi il 12 dicembre ci sarà il passaggio di Santa Lucia organizzato insieme all'amministrazione comunale e ai due oratori e per finire diciamo il 24 dicembre la Proloco come di consuetudine offrirà una fetta di panettone a chi verrà a trovarci ai mercatini dalle 17 in poi l'altra novità e qui ci tengo a ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale ma soprattutto i commercianti che faccio un po' da loro portavoce non è mai facile tenere vivo i negozi in questo periodo soprattutto quando si fanno i regali e soprattutto quando magari i regali si fanno sul web mantenere vive queste realtà non è facile in centro storico quindi a loro va il nostro grazie soprattutto perché hanno provveduto a realizzare e ad affittare loro le luminarie quindi grazie davvero insieme all'amministrazione che faranno tre punti luce in piazza Orologio in piazza Manzù in piazza La Rocca oltre ad illuminare le rotonde quindi sarà un Natale luminoso proprio per questo la Proloco ha deciso di installare 70 beti in 12 punti di clusone li illumineremo perché questo è diventato una nostra tradizione domani su Antenna 2 un nuovo appuntamento con il sasso nello stagno scopriamo in questa anteprima di cosa si parlerà domani sera tornerà il nostro appuntamento con il sasso nello stagno questa settimana da Costa Volpino abbiamo indagato su un fatto di cronaca purtroppo triste quello del suicidio di una ragazzina di 13 anni sembra causa di cyberbullismo quindi l'invito della madre di questa ragazzina è stato di controllare il telefonino dei figli e voi lo controllate il telefonino dei vostri figli? questa è la domanda che abbiamo posto alle persone incontrate a Costa Volpino tutte le interviste domani sera adesso una in anteprima i genitori dovrebbero controllare secondo lei il cellulare dei figli? secondo me sì soprattutto se sono minorenni assolutamente è un rischio pazzesco lo ha raccomandato anche la madre della ragazzina di 13 anni che si è uccisa perché è stromessa dai gruppi di whatsapp esclusa dal gruppo di amici e aveva evidentemente altri problemi grossi dice che secondo lei non basta essere stromessa da un gruppo di amici dal telefonino? ma no in quanti si sparerebbero allora? non è proprio tutta colpa del telefonino? assolutamente però bisogna curarli ragazzi io ne sono sempre più convinto e loro dicono abbiate fiducia in noi genitori sì 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 ma la fiducia è un conto il controllo dei minorenni è un altro discorso quindi secondo me vanno controllati fino a che età un ragazzo riesce a capire qual è il pericolo dei social? è soggettiva la cosa è soggettiva io penso dopo i 16 anni un genitore potrebbe in teoria stare un pelino più tranquillo però non è un dogma fisso anche il genitore deve capire ecco dipende dalla maturità dei ragazzi siamo in chiusura i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20.10 il calcio prima con a tutta di e poi con tempi supplementari alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.05 la partita di calcio vertovese oggi in attese a mezzanotte e 45 la terza edizione del TG l'almanacco domani è martedì 29 novembre il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 16.44 la luna è al primo quarto sorge alle 12.57 tramonta alle 22.43 la chiesa ricorda San Saturnino di Tolosa ed è tutto per questa edizione vi ricordo dopo il telegiornale l'appuntamento con il TG Sport le previsioni del tempo e poi il primo appuntamento di avvento con la preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti